Johnny Crozio, lei ha detto che l'Europa non è degna del premio Nobel per la pace, perché? Oggi assistiamo purtroppo ancora all'ennesima tragedia nel Mar Mediterraneo. Si parla di oltre 90 morti, tra cui donne e bambini, per cui degli innocenti, veramente una strage. Io penso che al netto delle posizioni politiche e di tutta la demagogia che ognuno può fare oggi, alla base di tutto c'è una questione di umanità. La cosa che ci lascia molto perplessi è la risoluzione fatta ieri in Consiglio d'Europa, dalla Commissione, la quale molto freddamente, in maniera molto distaccata da questo problema, dice che sostanzialmente è un problema, nasce dalla nostra politica sbagliata in questi anni e al fatto che dobbiamo mettere più risorse a disposizione per avere la solidarietà del resto dei paesi dell'Europa. Beh, questa cosa è una schifezza. Questa cosa detta dall'Europa ci fa solo dire una cosa, non meritano assolutamente il premio Nobel della pace. Qui, in questo momento, in questa tragedia che non conosce confini, io dico questa, veramente, donne e bambini, povera gente, non riusciamo a garantire neanche la carità cristiana. Per cui, noi abbiamo chiesto al Governo di venire in aula a riferire, ma abbiamo chiesto al Governo due cose. Una, una politica più incisiva nel nostro paese per quanto riguarda la questione degli sbarchi. Secondo, ben più importante, il Ministro Letta vada, lui in persona, in Europa, faccia la voce grossa, faccia valere la sua autorevolezza, se ce l'ha, verso l'Europa perché il nostro paese non può essere lasciato da solo in questo momento.